Per disegnare un rombo parto dalle diagonali. Attenzione a non confondere le diagonali con la base e con l'altezza. Disegno prima la diagonale maggiore e la faccio lunga e di un numero pari di quadretti, per esempio 8. Poi segno la metà, quindi se ho fatto 8 farò 4. E disegno la diagonale minore, che è sempre di un numero pari di quadretti, per esempio 4, più corta della diagonale maggiore. Quindi faccio due quadretti da questa parte e due quadretti dall'altra. Infine unisco i vertici e disegno i lati del rombo. Posso anche farlo ovviamente dall'altra parte, cioè facendo la diagonale maggiore orizzontale. In questo caso faccio per esempio 12 quadretti, trovo la metà, quindi 6, e faccio la diagonale minore. Sempre di 4, quindi due quadretti qua e due quadretti qua. E poi unisco i vertici disegnando quindi i lati. E poi unisco i vertici. Grazie. 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 Grazie.